Grazie Presidente, ho sentito alcune dichiarazioni che prima di tutto esamino quelle legate al fatto che Roma, o comunque che la Sindaca non stia portando avanti il tema legato ai poteri di Roma. Questo non è vero, lo voglio assolutamente contestare. In più di un'occasione la Sindaca si è concentrata e sta portando avanti questo tipo di attività. Lo stesso Governo e anche nel contratto di Governo, e mi preme dire rispetto al Governo precedente, c'è una massima attenzione su Roma. E quindi questa era la prima contestazione. Il secondo punto, invece che poi è l'oggetto delle due emozioni, io onestamente credo che queste emozioni, il mio consiglio che faccio ai proponenti è di ritirarle, semplicemente, perché stiamo parlando di qualcosa che è ancora in itinere. Quindi prendere una posizione su documenti o su attività che sono ancora ovviamente non definitive, io onestamente ai colleghi direi che pensiamo a fare il nostro lavoro e pensiamo a farlo bene per quanto riguarda Roma. Grazie.